Benvenuti nel mondo di Cornell. La storia di Cornell inizia nel 2009, quando Stefan Cornell, un orologiaio tedesco con una grande passione per l'orologeria, decide di creare il suo marchio ad Hannover, in Germania. Stefan Cornell ha l'obiettivo di creare orologi artigianali di alta qualità, che siano in grado di esprimere la sua personalità e il suo stile. Per questo, si dedica alla progettazione e alla realizzazione di ogni singolo orologio, utilizzando solo materiali di alta qualità e movimenti svizzeri di alta precisione. Tutti gli orologi Cornell sono realizzati a mano con grande attenzione ai dettagli, utilizzando solo materiali pregiati come l'oro e il platino. Ma non è solo la qualità dei materiali e dei movimenti a rendere gli orologi Cornell unici. Infatti, molti degli orologi presentano dettagli e finiture di alta qualità, che li rendono veri e propri capolavori di orologeria. Come il quadrante smaltato, il quadrante guilloché e il quadrante scheletrato. Cornell è un marchio di orologi di lusso che valorizza l'artigianalità e la qualità nella produzione di orologi. La collezione di orologi Cornell è composta da modelli esclusivi realizzati a mano, che spaziano dallo stile classico a quello moderno e contemporaneo. Se stai cercando un orologio di lusso, Cornell è il marchio giusto per te. Con la sua artigianalità e la sua qualità, gli orologi Cornell sono il simbolo dell'arte dell'orologeria tedesca.